Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 2 di questo corso di Python. Quest'oggi parliamo della sintassi. Cominciamo invece scrivendo un piccolissimo programma in cui prendiamo un input dell'utente, giusto per far vedere cosa possiamo fare con Python velocemente. Creiamo un messaggio e lo assegniamo ad un input, ok? Quindi un input dell'utente e scriviamo inserisci qualcosa, facciamo così, e sotto andiamo a prendere messaggio e lo inseriamo in print. Schiacciamo play qua in alto, vedete ci dirà inserisci qualcosa. Mi raccomando se vedete un nome diverso dal mio non preoccupatevi, sto usando il pc della mia ragazza giustamente, dovendo installare tutto da capo qui mi torna più comodo per i corsi, mentre invece il mio computer è già pieno di schifezze, programmi eccetera, quindi ci sarebbe tante cose da evitare, nascondere, per non farvi confondere per la quantità di librerie eccetera eccetera. Quindi se vedete un nome che non è il mio, non ho rubato un computer, state tranquilli. Comunque inseriamo qualcosa, ciao bel corso di Python, facciamo così, facciamo invio e incredibilmente guardate che ci viene rimandato a schermo. Questo perché semplicemente diamo a messaggio, assegniamo ciò che l'utente inserisce tramite questo input e poi lo mandiamo a schermo. Quindi questo è un'introduzione velocissima a Python, se fate questo, avete fatto il vostro primissimo programmino in Python, potete capire che con questa cosa qua potete fare inserisci un numero, quindi inserisci un numero e fate numero 1, numero 2 e poi come print mandate numero 1 più numero 2. Insomma se volete fare questo test, questo primissimo esercizietto potete farlo, ma noi non siamo qua per questo motivo, siamo qua per parlare appunto della sintassi. Cominciamo dai commenti, cominciamo dal commento, se ne volessimo commentare qualcosa ci basta fare l'hashtag, ok, quindi il cancelletto e possiamo commentare quello che vogliamo. In questo caso no, vedete la differenza, quindi se faccio play abbiamo una situazione, vedete, name error, name error is not defined. Se invece faccio così, miracolosamente, incredibile, vedete, non succede niente, non ci dà più questo errore qua sotto, vedete, si riparte da quad dove c'è giallo, e vedete che ci dà il nostro inserisci qualcosa. Quindi togliamo un attimo questo, chiamo ancora ciao perché non voglio vederlo ogni volta, e riproviamo. Vedete che non ci dà niente, ok? Quindi, perfetto, questi sono i commenti. I commenti ci permettono appunto di commentare il codice, cioè possiamo scrivere semplice metodo per mandare a schermo qualcosa, ok? Oppure possiamo scrivere file creato ad aprile 2021 durante un corso Python. Non possiamo letteralmente scrivere quello che vogliamo, non abbiamo alcun tipo di restrizione, ci serve per commentare il codice. Quindi mettete che voi tornate dopo una vita, e non sapete cosa fa, print, messaggio, stampo, messaggio, a schermo. Ok? Stessa cosa se lavorate con altre persone, volete commentare, spiegargli le cose, o insomma volete tenere traccia di quello che fate. I commenti sono sicuramente utili. Come fare però commenti multiriga? Tipo se io voglio scrivere tutta sta pappardella con un solo commento, come magari su JavaScript, l'abbiamo fatto, come CSS, HTML, in realtà non si può fare con Python, non ci sono commenti multiriga, dobbiamo commentare ogni santa riga. In questo caso togliamo qua la riga, e per avere tre righe commentate, dobbiamo commentare riga, riga, riga. Se prendiamo tutto e facciamo CTRL U, accentata, automaticamente ci fa una, due, possiamo prendere tutte e tre, non è un problema, insomma, vedete che con le shortcut possiamo fare la svelta, non preoccupate, arriverà un video introduttivo su VSC, dove parleremo di tutte le shortcut più comuni per prendere la vostra produttività e buttarla alle stelle. Comunque, questi sono i commenti, parliamo invece della cosa fondamentale di Python, che è l'indentazione. Che cos'è l'indentazione? Indentare di base significa, cerco di spiegarlo con le parole più semplici possibili, avere il codice strutturato con spazi, in questo caso con la tab, quindi la tabulazione. Quindi abbiamo il codice, se vi ricordate HTML, anzi probabilmente non lo sapete, magari se non l'avete mai fatto, abbiamo il codice scritto così, poi andiamo a capo, andiamo del codice scritto così, codice scritto così, ancora, e poi continuiamo e facciamo altro. Questa è l'indentazione, perché abbiamo, vedete qua, che ci dà questa cosa grigia, provo a zoomare un pochino, vedete questa cosa grigia, serve ad indicare la tabulazione, se vado avanti così, vedete che ce ne dà un'altra, ce ne dà un'altra ancora. Questa cosa qua, per altri linguaggi di programmazione, è semplicemente, chiamiamola una chicca aggiuntiva, per rendere il codice più leggibile, mentre invece per Python è l'essenza. Questo perché, se io scrivo if, proviamo a finire l'if, mettiamo i due punti, andiamo a capo, vedete che ci dà già l'indentazione, perché se lo aspetta, ok, se lo aspetta, di conseguenza, dobbiamo seguire questo pattern, quindi mi raccomando, già comunque, WSC o PyCharm ci aiutano, cioè, in automaticamente, ci mettono l'indentazione corretta, quindi print, e facciamo semplicemente, messaggio, ok, se andiamo a capo, lui dà per scontato, che noi vogliamo continuare a star nel leaf, lo vedete? quindi poi ci basterà una volta, se vogliamo uscire dal blocco, facciamo semplicemente invio, backspace, e poi vi farò vedere altre, altre shortcut che possiamo usare, quindi, così usciamo, e ciò che scriviamo dopo, non farà più parte del leaf, quindi se io scrivo poi, ciao, e facciamo play, vedete che ci dà messaggio, perché fa parte del leaf, e poi ciao a parte, se noi facciamo che, 10 è minore di 5, non è assolutamente vero, ci manderà a schermo solo ciao, perché ciao non fa parte del leaf, e di conseguenza, questa cosa qua non è verificata, e basta, quindi questo è il concetto di indentazione, è un concetto fondamentale, che dovremo usare sempre, quindi quando andremo a imparare if, i loop, le funzioni, e tanti altri blocchi di codice, andremo a usare questa indentazione, mi raccomando, se voi non la usate, comunque siete fortunati, perché python ve lo segnala, ok, quindi se non succede quello che deve succedere, vedete qua, indentation error, ve lo dice subito, ok, ve lo dice subito, e ve lo dice anche alla riga, quindi, siamo molto fortunati, che abbiamo tutta questa serie di, di aiuti, semplicemente andiamo qua, tab, indentiamo, facciamo ripartire un'altra volta, e fila tutto liscio, in questo caso non va, perché giustamente, è 10, riproviamo, e adesso funziona tutto, ok, quindi, mi raccomando, questa è la parte fondamentale, della sintassi di python, non ci sono punti virgola, come in altri linguaggi di programmazione, ok, quindi siamo molto più liberi, da questa cosa qua, ma, è l'indentazione che fa tutto, se non c'è quella, abbiamo problemi, quindi, vi ringrazio per essere rimasti con me, questo era un video, introduttivo alla sintassi, adesso possiamo cominciare, a scrivere python, noi ci vediamo nel prossimo video, dove parleremo di variabili, abbiamo veramente, tanto, 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 di cui parlare, io vi ringrazio ancora, sotto in descrizione trovate tutti i link, soliti per sostenere il canale, piuttosto che la community telegramma e quant'altro, e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!